Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, come abbiamo fatto per Di Maria, andiamo a ufficializzare l'arrivo di Paul Pogba alla Juventus. La Juventus, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il ritorno del figlio al prodigo Paul Pogba, il 29enne centrocampista francese, che si è liberato a parametro 0 dal Manchester United ed è stata festa grande. Perché comunque c'è stato un grandissimo entusiasmo che ha invaso il mondo Juventus. I social sono letteralmente impazziti. L'arrivo di Pogba è ancora in tendenza sui social, sui principali social e sui canali ovviamente della Juventus. E quindi stiamo parlando di un arrivo, come per Di Maria, di un arrivo grandioso da questo punto di vista. Quindi la Juventus rinforza il centrocampo con un colpo a effetto, un parametro 0. Paul Pogba, 29 anni, comunque un centrocampista che in questo momento è nella fase migliore della sua carriera. 28-29 anni è quella più o meno l'età in cui un calciatore potrebbe esprimere il massimo potenziale perché può abbinare il fisico, quindi le qualità fisiche che sono al massimo della propria potenza e poi l'esperienza che guadagna comunque un calciatore anno dopo anno. La Juventus quindi nel suo comunicato ufficiale ha perfezionato un contratto con Paul Pogba fino al 30 giugno 2026. Quindi stiamo parlando comunque di un contratto lungo che sarà inevitabilmente uno degli ultimi contratti di Paul Pogba della sua carriera. A fronte del tesseramento la Juventus sosterrà dei oneri accessori per 2,5 milioni pagabili entro il 31 agosto 2022. Quindi più o meno grossomodo sommando le spese per Pogba e le spese per Di Maria la Juventus con circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni, porta a casa due calciatori di livello assoluto. Certamente la Juventus poi ha comunque glorificato ancora di più il suo comunicato ufficiale con dei messaggi veramente meravigliosi nei confronti di Paul Pogba dove appunto è stata ripresa la sua prima avventura in bianconero una ragazza di appena 20 anni che esordiva in prima squadra dopo essere passato proprio dal Manchester United a parametro zero. E nel 2016 le strade si sono separate dopo 4 anni condite da tantissimi gol, tantissimi assist da un numero 10 che Pogba ha preso nel suo ultimo anno. E quindi la Juventus è tornata a dare fiducia da questo punto di vista a Pogba con un'altra volta il suo numero 10. Quindi Pogba va in un certo qualsiasi a sostituire Paolo Di Bala da questo punto di vista anche se le posizioni in campo e i ruoli sono completamente diversi e quindi lo fa prendendo un Pogba che comunque nel suo periodo al Manchester United si è consacrato a livello mondiale perché ha vinto il mondiale, la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018 ma poi ha vinto anche al suo primo anno allo United un trofeo internazionale perché ha vinto un Europa League da protagonista e quindi è tornato Pogba è tornato innanzitutto come persona molto più esperta lui l'ho anche detto nella sua conferenza stampa di presentazione che è stata appunto eseguita nella giornata di oggi e domani parleremo comunque sul canale delle due conferenze stampa sia quella di Pogba sia quella di Di Maria quindi per riprendere comunque un discorso precedente e quindi ragazzi Pogba torna alla Juventus da questo punto di vista sono contento perché credo che il centrocampo necessitava di un rinforzo di questo livello prendere Pogba a parametro zero oltre ad essere un grande colpo secondo me perché il calciatore è un grande calciatore ma rappresenta una grande occasione di mercato non è semplice comunque nel mercato di adesso andare appunto a fare un passo in avanti da un punto di vista proprio della potenza nei vari ruoli se non appunto spendendo veramente tanti soldi sul mercato e quindi la Juventus prende un calciatore di 29 anni quindi non vecchio come Di Maria quindi da questo punto di vista credo che sia una grande operazione l'unico dubbio che io ho su Paul Pogba è che negli ultimi due anni il Pogba del Manchester United è stato tartassato dagli infortuni lui l'ho anche detto nella conferenza stampa di presentazione spero di stare bene da un punto di vista fisico perché ultimamente non sono stato bene e quindi dove può andare a giocare Paul Pogba nella Juventus attuale? credo proprio che l'evoluzione del francese da centrocampista basso sia fallita con appunto la sua esperienza nel Manchester United lui l'ho anche detto in conferenza stampa io ho trovato difficoltà all'United da un punto di vista anche della posizione in campo centrocampista basso oppure vertice basso in un centrocampo a tre non credo proprio che sia la destinazione ideale per Paul Pogba e allora dove potrebbe giocare Pogba? pensando che comunque la Juventus ha cercato di coprire proprio il ruolo di Pogba con un calciatore molto simile a lui con caratteristiche simili come Zaccaria ma è ovvio che Pogba è di un altro livello dove potrebbe giocare Pogba? io credo che la Juventus si stia orientando anche con l'arrivo di Di Maria verso un 4-3-3 sono del tutto sicuro che la Juventus schiererà quasi sempre questo modulo nel corso della stagione 4-3-3 con Di Maria ovviamente alla destra e Pogba mezzo alla sinistra chiaramente Rabiot è sul mercato perché non ha soddisfatto Allegri nel corso di questa stagione quindi attenzione alla sua eventuale partenza credo proprio che la collocazione perfetta di Pogba sia quella di mezzo alla sinistra lui ha avuto difficoltà al Manchester United perché ripeto ha giocato in posizioni non congeniali da lui magari in un centrocampo a due io Pogba continuo a vederlo solo esclusivamente come mezzo alla e non come centrocampista a basso ma poi altri stanno anche dicendo Pogba potrebbe essere il nuovo regista della Juventus io credo proprio assolutamente no Pogba vertice basso di un centrocampo a tre credo che possa fare veramente dei danni proprio per un suo modo di giocare comunque lui è solito girare per il campo è solito comunque essere anche un po' lezioso lo sappiamo Pogba nella sua prima esperienza alla Juventus ha dato veramente tanta fisicità tanta qualità però è anche un giocatore molto innamorato del pallone e metterlo vertice basso credo che sia una cosa dannosa alla Juventus ma poi attenzione ad un eventuale 4-2-3-1 perché chiaramente le posizioni in campo possono comunque essere possono comunque essere modificate nel corso dei 90 minuti e quindi attenzione ad un eventuale centrocampo Zaccaria a mezzo alla destra Locatelli davanti alla difesa e Pogba a mezzo alla sinistra e attenzione magari a un Pogba che potrebbe nel corso della gara trovare la sua posizione magari cercando di dare più fluidità alla manovra offensiva spostandosi da trequartista quindi magari a un 4-2-3-1 con Pogba vicino agli attaccanti e dietro Locatelli e Zaccaria a dare fisicità nel duo di centrocampo credo che questa potrebbe essere una soluzione tattica e andrebbe secondo me a coprire le tante difficoltà che la Juventus ha nel centrocampo perché è vero sono arrivati dei giocatori nuovi al centrocampo non è arrivato solo Pogba è arrivato comunque anche Novella Fagioli lo stesso Miretti è stato confermato a quanto sembra quindi Pogba potrebbe con questa soluzione quasi da trequartista e Locatelli e Zaccaria un po' più abbassati potrebbe la Juventus risolvere l'assenza di un regista classico perché io penso che in questo momento vedendo il centrocampo della Juventus l'unico vero regista è Niccolò Fagioli e poi attenzione perché comunque Rabiot dovrebbe partire Arthur dovrebbe partire quindi entrambi questi calciatori sono sul mercato e quindi attenzione ripeto ad un Pogba che potrebbe giocare in una posizione più avanzata le sue skill, le sue qualità le conosciamo potrebbe essere un'arma interessante da questo punto di vista e quindi ragazzi attenzione ripeto a questa scelta poi Pogba di Maria come alla destra a sinistra quando rientrerà Federico Chiesa davanti Blaovic credo che vanno appunto a comporre un quartetto di tutto rispetto centrocampo a due con Locatelli-Zaccaria Locatelli-Mecchenni Locatelli-Fagioli quindi comunque Locatelli lo metto sempre in campo perché comunque Allegri vede in Locatelli uno dei leader della prossima Juventus la difesa la andrà a comporre con Danilo magari Cambiaso come terzino sinistro o comunque purtroppo Alexandro la difesa con comunque i soliti Bonucci chi arriverà al posto di De Ligt quindi ragazzi credo che le soluzioni per una Juventus interessanti siano appunto anche da ricercare in un 4-2-3-1 ripeto con Pogba con compiti più offensivi spero di non vedere un Pogba ripeto o come vertice basso di un centrocampo a 3 o come centrocampista a 2 quindi un centrocampo a 2 magari in coppia con qualcuno perché quello secondo me non è la sua posizione lui è una mezzala e deve fare la mezzala con compiti offensivi ragazzi questo era il video su Paul Pogba ditemi la vostra nei commenti mettete like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga ciao a tutti